Buonasera a tutti, nei giorni recenti ho pubblicato un video che cita l'autorevolissimo New York Times che credo non abbia bisogno di presentazioni, dove aveva fatto una ricerca, aveva fatto un'inchiesta che dimostrava come negli Stati Uniti il fotovoltaico sposato con l'agricoltura aveva prodotto risultati definiti miracolosi sulle api e su tutti gli insetti impollinatori. Ora, io non metto in dubbio quello che sta dicendo questo apicoltore sardo, però mi domando come sia possibile che il fotovoltaico negli Stati Uniti faccia non bene, benissimo, alle api e a tutti gli altri insetti impollinatori, mentre nell'esperienza di questo ragazzo il risultato sia una strage degli innocenti. Dimmi che cosa ne pensi e un saluto a tutti da Marco Fai, altro esperto del fotovoltaico. Ciao ragazzi e buona serata.